L'isola dei famosi, Mercedes svela la verità, ecco perché mia madre ha parlato. La figlia di Avenger, Mercedes, ha confessato il vero motivo del gesto della madre fatto sull'isola contro Francesco Monte. L'isola dei famosi 2, 0, 1, 8 in questi giorni ha vissuto una vera e propria bufera mediatica, infatti, tutti i giornali ed emittenti televisive hanno parlato dello scontro avvenuto in diretta all'isola tra Avenger e Francesco Monte. Quest'ultima infatti, durante la sua eliminazione dal gioco ha rivelato una pesante accusa nei confronti dell'ex tronista di uomini e donne, Francesco ha portato la droga. Naturalmente, la conduttrice Elessia Marcuzzi e gli opinionisti davanti a questa dichiarazione molto pesante sono rimasti spiazzati, tuttavia, in molti sul web si sono schierati contro l'ex attrice a luci rossa e la figlia Mercedes riempendole di insulti sui profili social. Avenger ha fatto questo sgarbo a Francesco Monte perché quest'ultimo l'ha nominata oppure davvero l'ex tronista ha portato della droga all'interno delle reality? Scopriamo tutta la verità nel proseguo della news tramite le dichiarazioni di Mercedes-Engel. Isola dei famosi 2, 0, 1, 8 News, Eva e Mercedes-Engel insultate sui social. Come anticipato nel paragrafo iniziale dell'articolo, la clamorosa dichiarazione di Eva Engel contro Francesco Monte ha scatenato un vero e proprio putiferio mediatico. Infatti, il popolo del web dopo la seconda puntata dell'Isola dei famosi 2, 0, 1, 8 si è recato nelle pagine ufficiali di Eva Engel e la figlia Mercedes per commentare duramente il gesto della madre. Tuttavia, però, la gente non conosce i limiti. Infatti, la povera figlia di Eva Engel si è trovata a leggere dei commenti molto offensivi, dove alcuni addirittura le auguravano la morte. Mercedes-Engel svela la verità sul comportamento della madre Eva. Nelle ultime ore Mercedes-Engel è stata ospite nel programma Casa Signorini. Proprio quest'ultimo ha domandato alla bella modella il perché Eva Engel ha rivelato queste pesanti accusa contro Francesco Monte. A quel punto Mercedes ha svelato, che lei e la madre hanno passato dei momenti brutti proprio per la droga. Mio fratello a 17 anni è stato arrestato per aver trovato nelle sue tasche 5 grammi di marijuana. Quindi l'accusa di mia madre contro Monte è avvenuta più per aiutare Monte, perché mia madre è stata molto scossa dalla situazione di mio fratello. La figlia della Engel ha concluso l'intervista dicendo, lei ovviamente avrà detto a Monte guarda, no, non la voglio, perché poi le era stata offerta, no, non la voglio, anzi, non dovresti farlo neanche tu. Eva ha davvero voluto proteggere dalla droga Francesco svelando in diretta televisiva l'uso di essa. Se volete rimanere aggiornati su tutte le notizie sul mondo dello spettacolo e programmi TV, vi invitiamo cliccare il nome dell'autore dell'articolo e successivamente il tasto sedile. . 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.